Buongiorno amici investitori, buon inizio settimana e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly Fuzzi Mib. Come di consueto ogni lunedì analizziamo il principale indice di borsa italiana per condividere le strategie operative valide per la settimana in corso. La scorsa settimana le votazioni del Fuzzi Mib hanno violentemente virato al ribasso, violandosi all'importante zona di supporto a 27.000-26.900 punti nonché i minimi di maggio in area 26.500 punti. Dopo aver spiorato il supporto a 26.100 punti i prezzi hanno rimbalzato riportandosi in prossimità dei 26.900 punti, determinando un evidente segnale dalle implicazioni rialziste. Il quadro tecnico rimane a favore dei venditori nel breve termine, fino a che non verrà recuperata a area 27.000 punti. Segnali di forza in zona 26.300 punti potrebbero dargli via strategie long con obiettivo a 26.900 punti. Fronte ribassista si potrebbero valutare strategie short in caso di segnali di debolezza in area 26.900 punti. Con primo target sul supporto 26.100 punti è obiettivo più ambizioso in prossimità della trendline che conta i minimi registrati a dicembre 2022 e marzo 2023, ora transitante in area 25.800 punti. Bene, questo è il quadro tecnico del Futsimib da parte dell'ufficio studi di investire.biz. Vi ricordo che potete operare anche voi sull'indice di borsa italiana con i certificati long e short di bmpparivà. Per farlo è semplice, basta visitare il sito investimenti.bmpparivà.it, andare nella sezione certificati a leva, turbo e mini future, qui potrete ricercare il vostro prodotto, in questo caso su tutte le categorie mettiamo indici, sottostante Futsimib, direzione per esempio long. Ecco che sulla destra compariranno tutti i prodotti dell'emittente francese, che potrete utilizzare per la vostra operatività. Bene amici, per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione e non mi rimane altro che darvi appuntamento lunedì prossimo per la nuova analisi sul Futsimib. Buona settimana e buon trading a tutti! Grazie a tutti!